Un tuffo nostalgico negli anni 60 e 70. Questo rappresenta per Luca Verdone il film che lo stesso regista romano ha dedicato al padre. Pellicola intitolata Mario Verdone, il critico viaggiatore, presentata oggi al Festival del Cinema Europeo in svolgimento fino a domani a Lecce. Domani Luca e sua sorella Silvia presenzieranno alla ormai tradizionale consegna del premio intitolato al loro padre, invece Carlo Verdone vi parteciperà in collegamento. Il critico viaggiatore è mio padre Mario Verdone che è vissuto tra il 1917 anno di nascita e la morte nel 2009 lasciando una forte impronta nella critica cinematografica e negli studi sul cinema. È stato il primo docente di storia del cinema nell'università e quindi era per me doveroso fare un omaggio al suo lavoro che è stato molto importante. Se oggi dovessimo compiere una critica al cinema italiano, dove sta mancando, se sta mancando? È che c'è molta improvvisazione e mancanza di cultura, mancanza di cultura storica soprattutto. Scambiano il cinema come un prodotto televisivo, trasformano il reportage televisivo in un racconto narrativo che non ha i presupposti.